Ciao Milano, ciao Milano, io sono il vostro Paul Paul from Carolina, Massachusetts e sono qui oggi a Milano, come sempre, per farvi scoprire quello che mai avreste pensato di trovare nella nostra grande città Una cosa pazzesca Milano, siete pronti? Allora, io ve la metto qui sui nostri profili social, sapete la pagina Facebook Nati per nascere a Milano profilo Instagram, Tinder, Pinterest, Pankerest, Finsterest, Gronderest Fermati Paul, fermati, fermati, scusa Troppi, troppi Devi stare sui social da giovane, se tu non sei sui social non so come fai Hai ragione, hai ragione Noi siamo sui social perché noi, ciao Milano, come stai? Oggi vi faccio vedere qualcosa di sorprendente Nella notte, sappiate, anzi tensione, tensione perché nella notte è successo qualcosa che solo a Milano può succedere No, sentiamo, sentiamo poi Anche Milano ha il suo Banksy No Sì, perché nella notte sono comparse in tutta la città dei segni inconfondibili Sulle pareti? No, inconfondibili Che solo Milano ha, ciao Milano, l'avete visto? No, perché vi siete appena collegati con noi della nostra pagina Nati per nascere a Milano Ma adesso ve lo faccio vedere, siete pronti? Vediamo, vediamo Anche Milano ha il suo Banksy, ve l'ho già detto? Sì Ciao Milano! E allora colleghiamoci Andiamo avanti Vi facciamo vedere la cosa che questa notte ha sbalordito tutti quanti noi milanesi Voi milanesi, perché io sono from Nebraska, New York, la città è invasa da questi segni orizzontali bianchi che abbiamo ovviamente con grande fantasia d'artista definito Zebra 2D Ma sono dei murales? No, sono per terra, eccole qua, guardate, vi faccio vedere le foto, potete vedere le foto in esclusiva sul nostro profilo plant forest di Nati per nascere a Milano Aspetta poi, ma la gente ci cammina sopra Sì, perché c'è gente che non capisce l'arte e le usa per camminarci sopra No, Paul, mi sa che Ciao Milano! No, Paul, Paul, mi sa che sei tu che non stai capendo che quella non è arte Ma questo, Milano finalmente ha il suo Banksy, non siamo provinciali come tutto il resto d'Italia Certo, certo, però mi sa che sono strisce pedonali quelle Ma no, sono Banksy strisce? No, Paul No, sono le strisce della Zebra 2D Paul, proviamo a toglierle, vediamo cosa succede? Non abbiamo più Banksy No, è vero, è vero Ciao Milano, ricordatevelo Nati per nascere a Milano Profilo Facebook, Instagram, Pinterest Frienders, frienders, bronze, friends, all of one